Come azienda Luitcaffè stiamo cercando di inquadrare alcuni caffè, alcune monorigini particolari da presentare, che presenteremo nel corso della prossima stagione, in particolare abbiamo inquadrato un lotto particolare di Brasile che è un Yellow Bourbon, chiamato Fazenda Quattro e Maos, in portoghese e in brasiliano, un caffè molto dolce, è un caffè che ha caratteristiche di essere un caffè con un buon corpo non troppo eccessivo, un'acidità anche qui media, vivace, non aggressiva e soprattutto questo retrogusto molto dolce di mandorla, di frutta secca, veramente un caffè che io consiglio sia nell'utilizzo come monorigine, quindi in purezza, ma anche abbinato a magari un'arabica lavata, un'arabica che gli può dare quella nota più di acidulo per renderlo un caffè ottimo per l'estrazione espresso.